Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi procederemo con il montaggio di Iron Man. Questa è la prima uscita, perché per fortuna l'anno uscita costante. In questa confezione abbiamo il libricino di istruzione per il montaggio e tutti i vari pezzi, per fortuna c'è anche il giraviglia, la batteria e tutto quello che è necessario per poterlo fare. Vi faccio dire anticipatamente come sarà poi l'anno uscita, ed è questa qua. Poi dopo lo romandiamo e poi non ci teniamo quindi. Procediamo con il montaggio. A presto. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti